buon salve ragazzi bentornati in questo nuovo video io sono baxter oggi in questo video ci duelleremo in peggle io e novax precedentemente la sfida stata fatta da dino voglio vedere se almeno io riesco a battere novax che c'ha un mazzo tanto io direi di partire allora partiamo subito con un random level bellissimo abbiamo tutti i personaggi bloccati io prendo il girasone è il mio preferito io voglio il castore ok vediamo subito che parte parte fatto io con il mio castorello allora intanto facciamo questo così subito vado più a pallina sì come come attenzione potrebbe essere un gran tiro e un cesto bones attenzione 24 mila 300 di più di più 26 mila potrebbe essere un gran tiro attenzione pericolos pericolos ma dai ma anche attenzione io sono un cacca ora è rimasta lì sono rimasta ferma va bene hanno ucciso ferma intanto non sono io volevo il mazzo poi mazzolini di fiori no non c'è altro e però c'hai il punto stile attenzione vai così bello questo è una domenica questo è un'altra domenica questo è un attenzione come ho fatto hai fatto un mix rimbalza tutto ah non può vai questo è un meno 25 come si è bella che palle di a c'è sto meno 25 recupero recupero pure vedi il mazzo tanto è forti ok il bel lanciore non so no attenzione dai dai adesso passo i cantieri vince la prima e passer c'è attenzione cambiamo pg io voglio la zucca io voglio il traghetto proviamo tocca a lui tocca a mia attenzione oh oh ok attenzione partire io voglio partire oh l'inizio 0 punti sì perché io sono forte lavori in corso intanto in casa guarda no benissimo basta nel guai e vai ho fatto 8 punti adesso basta mi sono adesso basta mi sono rotto il baster 0 0 25 ma che vai vado spondalo 1 1 sì vabbè vado avanti a 900 punti alla volta ancora qui e ti stanche me attenzione questo è mafia momento buono per la verde poi attenzione ragazzi punti a manetta e c'è il sorpasso attenzione che durerà per poco ma davvero ma davvero ma davvero è successo ma già la palla di fuoco come così ma ragazzi no è l'ultima palla di nuova cioè io sono tipo sei tiri che sto facendo un meno 25% vabbè dai l'ultimo tiro è un po' l'ultima palla mia 33 io qua mi speravo in un meno 25 c'è pure il blu attenzione e siamo 2 su 2 Bax era un portente ma 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 Bax era un portente Bax era un portente io vado di lumacca è un granch un granchi lumacca un granchi molle ecco tocca a me perché c'è le chiele con questo ti fa tipo flipper con le dittina così ah figa grande e le usi col mouse ah ok quando arriva lì la palla c'è male oh figa oddio oh vabbè sono servita tanto le chiele ragazzi ce l'hai per 3 turni ah ok come nelle si io dopo c'ho il super le nalotte ok oh 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 basta guarda cadi ecco stai giù vai tiriamo dove c'è il sole golly ecc effetti flip oh eh ha già pure il bonus 25 Euro per effetti io adesso c'ho il super tiro, guarda eh c'è il tiro zen maximum zen activated activated cosa si dice activated? activia activia scusate cambiamo il testino cambiamolo lì guardalo il giro del loro che culo ahhh che l'è? che l'è? che l'è? ma minchia cioè sei avanti di 30.000 punti ragazzi lasciate nei commenti se qualcuno del we for fun può battere nobugs ecco appunto a vuoto a vuoto dell'errivo dell'errivo i fan che salutano tanto ecco ma non è ma 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 questa partita ha più sfiga del resto dovrebbe essere l'ultima pallina tanto c'è quella c'è quella cannetta di zucchero non lo so non lo so ho visto ho visto i nostri elefanti con meno punte si l'ho visto anch'io è la stessa partita di prima perché ho punto no e ora come faccio? lo tolgo e provo così bene continua a perdere punti che va vicino io questa volta la prendi ok consigliamo un paio di occhiali ragazzi vado a prendere vado a prendere comunque hai vinto yes tale zero vai cappotto così verso il titolo buona nella prossima puntata avremo la cintura che ho scritto pego il champion esatto quindi ragazzi se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace e condividete il video iscrivetevi al canale e al prossimo ciao bello bello Grazie a tutti.